Salve a tutti, sono l'artista Adrian Chiria che oggi vi presento una struttura, un fil di ferro lavorata per una scultura, per progettare una scultura. La scultura sarà progettata ovviamente con materiali di riciclo che non le voglio divulgare in questo momento finché non accadrà questa scultura. Vi faccio vedere che ci sarà dentro da questa scultura. L'ho realizzata molto flessibile perché è molto importante armonicamente quando sarà al montaggio dalla scultura eccetera. Il modellismo sarà molto importante, la posizione se abbassiamo, se alziamo, un piede più alto, un piede più sopra e in questo modo è molto facile per noi. Anche così è molto carina e fa questo effetto di muoversi anche se l'avessi messo su un tavolo eccetera, quindi si vede bello il movimento del vento eccetera. Sono cose che l'essere umano le fa ma è difficile che un computer riesce a seguirli in questo senso, in questo modo di pensare. Vabbè, per adesso vi saluto e poi quando sarà la definizione della scultura ovviamente ve la farò vedere. Vi saluto!